Davanti a questo monumento dedicato a Damareta, una regina che si impegnò tanto per la pace e la solidarietà tra i popoli e fu la prima donna al mondo che si schierò per la vita contro la morte perché pretese nel corso dell'armistizio tra i greci e i punici di non mettere più sacrifici umani davanti gli altari dei falsi e bugiardi. Quindi fu in assoluto la prima donna al mondo, una grigentina, una siciliana, una europea che ha dato tanto a questa nostra società, un messaggio che noi tramandiamo alle future generazioni perché possano comprendere e capire il valore della vita e quindi noi siamo qui proprio a renderle omaggio all'inizio della Via Imera perché ricordiamo anche la guerra del 480 a.C. tra i greci, seracusani e agragantini contro i punici e che si svolse proprio nella pianura di Imera. Quindi innanzitutto ringrazio la nostra carissima assessora, Roberta Lala, molto sensibile e disponibile al punto che ha dedicato a questa donna un omaggio floreale, il ricordo del suo impegno sociale e politico e poi devo ringraziarla perché ha dedicato una via a una delle donne più importanti della nostra società grigentina che nel 1905 a Cursi a Pumilia fece lo sciopero per avere lo stesso diritto di voto degli uomini e quindi una sensibilità che io riconosco nel nostro amministratore del Comune. Grazie, quindi ho la parola al nostro assessore. Io in un momento così difficile per la nostra società, prima la pandemia, poi la guerra, non posso che rendere omaggio a una donna che era simbolo della pace, da Mareta, una grigentina che ha lottato contro il sacrificio umano che veniva fatto tra l'altro ai bambini negli altari dei pagani e ci è riuscita con la sua forza, con la sua determinazione. Queste donne vanno ricordate, vanno ricordate ogni giorno perché da queste donne dobbiamo prendere lo spunto per lottare per una società migliore. Come ha detto precedentemente il dottor Cilona, io che fa parte della commissione toponomastica, ho proposto inoltre alla commissione toponomastica di intestare una via a una donna, una donna che è stata una pioniera a Cursi a Pumilia, originaria di Agrigento, perché lei prima di chiunque altra chiese di essere iscritta nelle liste elettorali nel 1905, quindi capite bene che è una pioniera perché il voto alle donne fu dato soltanto nel 1945-46, credo. Quindi io sono molto felice di essere qua e che il simbolo e la storia di Damareta possa entrare nelle nostre anime in modo che noi possiamo portare questo dono di pace nel mondo e verso chi ci sta accanto.